Ciao Marino, primo aggiornamento per la tua Porsche Carrera ci siamo visti poco tempo fa, mi ha lasciato la macchina siamo quasi pronti ad operare facciamo vedere ai nostri fan questa Porsche dove nel momento in cui apriamo gli sportelli e soprattutto di notte questa macchina è buia, non ha nessun punto luce qual è il bello di Avio Elite, del nostro staff? non è che andiamo a fare, ci sono pacchetti luce ambient light originali e tutto quanto ma noi cerchiamo di andare anche un pochino oltre andiamo a creare noi il nostro pacchetto luce ambient quindi Marino ci ha portato questo Porsche Cayenne, questo Porsche Carrera cosa andiamo a fare? Maniglie, tasche andremo a fare un console centrale, tunnel centrale una cosa spaventosa che tu dici originale non esiste beh, originale non esiste ma da Avio Elite esiste e poi vediamo se riusciamo a fare anche un'illuminazione alle bocchette d'aria ma questo lo scopriremo nel tempo quindi grazie Marino passiamo alla BMW di User User, il tablet è 12.5 pollici installato fantastico, è veramente impressionante retrocamera full HD installata la possiamo vedere, quasi invisibile le ambient light siamo in chiusura abbiamo fatto già i collaudi totale andiamo a chiudere tutti i pannelli ricontrolliamo tutto e poi faremo un video dimostrativo stupendo ma intanto andiamo a vedere la bestia del cartable vi ringraziamo di cuore grazie veramente a tutti voi perché tutte queste elaborazioni sono merito della vostra fiducia verso di noi grazie a tutti